Oggi è la giornata di apertura del CES, le aspettative sono tante, noi ci crediamo. Io sono in rappresentanza del gruppo giovani vivarese, sicuramente le cose che vedremo oggi ci faranno capire un po' quello che sarà il futuro che ci aspetta. Un futuro secondo me molto prossimo, dalle anticipazioni che abbiamo avuto degli incontri di questi giorni, dalla differenza del passato, secondo me l'Italia è sempre più vicina a quella che è l'innovazione che si sta portando avanti. Come gruppo giovani io ritengo che sia veramente importante venire a vedere, non solo leggere quelle che sono queste importanti iniziative che si fanno a livello mondiale, sicuramente durante il 2018 ne porteremo avanti altre, perché sono fondamentali e sono da vivere, sia per il network che si crea con gli altri compagni del gruppo, sia per quello che si rivede, per quello che si respira e per quello che ci rimarrà dentro.